Se subisco un gol su FIFA il video finisce Ok ragazzi non credevo che l'avrei mai potuto fare ma stiamo veramente giocando a FIFA Tra l'altro siamo nella postazione di Joseph dato che io FIFA non ce l'ho E quindi direi di iniziare, premiamo start e vediamo come funziona E dico ragazzi come funziona perché io non ho mai giocato a FIFA Io credo che questo sia non lo so la schermata iniziale Ragazzi credo che mi sta facendo fare il tutorial Ma direi di evitare, non fa niente sono troppo forte, terminiamo la partita Ma cosa vuole? Ma cosa vuole da me? Non so a che squadra mettere Ma non lo so, fatemi mettere il Napoli raga ma io queste cose non le capisco Ma che è sto minuio? No raga veramente questa cosa sta procedendo male Calcio d'inizio, ma che ne so io Napoli contro Roma, si Ah addirittura dice che deve valutare il mio livello per scegliere il livello dei giocatori avversari Questa cosa è cringe, cioè tipo mi esce, guarda cambia gioco come modalità a me Allora dice, no a livello esordiente Ottimo, allora però non mi ha dato principiante, mi ha dato esordiente E c'è da dirlo, non lo so Vabbè comunque io metto campione Anzi leggenda, si ragazzi leggenda Andiamo, io voglio farlo Mi sento casato dopo quei due gol di prima Cioè sono Cristiano Ronaldo In diretta dello stadio olympic Attenzione, passaggiora su terra per il Napoli Ok raga ho imparato a giocare Sto troppo forte raga, sto troppo forte Guardate, guardate Ma leggenda chi? Legenda chi? Guardate che passaggio Che è stato? Eh, 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 eh Non ho capito Eh vabbè L'arbitro è comprato raga, vabbè Ho capito No, non ci piace proprio sta cosa Arbitro Ragazzi Ragazzi via dalla porta No, 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 no Sei calmo, sei calmo Ti faccio contrasto Eh, che? Che volevi fare gol? Eh, mu Muto, non so neanche chi sei Ma gà, però devo dire Cioè a leggenda non mi hanno fatto ancora gol Ma com'è possibile? Cioè non dovrebbero tipo spaccarmi in due Cioè ma io non so proprio giocare Non capisco perché Ok che hanno il possesso palla Tipo del 90% loro Però cioè perché non mi stanno spaccando? Ok, ok Era una battuta Già mi hanno impallato con tre passaggi che hanno fatto Siamo calmi? Siamo calmi? Non so neanche Oh, c'ho Di Lorenzo Che è il nome della mia professoressa di italiano Smettila Oh, troppo forte ragazzi Attenzione Passa Passa Levati Eh, va bene Allora, io sto veramente No, oh, 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 oh Piazza Balla Meret Cameret Come ti chiami Poi non so neanche quando è fuori gioco Ragazzi ma stiamo scherzando No, mi sto facendo autogol Che sta a fa? Non riesco neanche a superare la metà campo Non riesco neanche a superare la metà campo Però Cioè ripeto Già che non mi hanno fatto gol Per me è un gran traguardo Ma è gol assim Sì Sì Grazie a tutti.